Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Amici sta per ricominciare, manca davvero pochissimo all'inizio dell'edizione dal 2022 al 2023 e sono emersi indiscrezioni importanti sulla nuova trasmissione condotta da Maria De Filippi A quanto pare, già da ora i ragazzi della scuola più famosa d'Italia, sono gli uni contro gli altri Ecco per quale motivo.Il programma più atteso del palinsesto Mediaset comincerà il 18 settembre con tante novità Scopriamo cosa ci aspetta in tv con la prossima edizione dell'amatissimo format di Canale 5 Amici 2022 avrà tante nuove regole e alcune di queste prevedono una forte competizione tra i ragazzi della scuola di Canale 5 Gli allievi dovranno fare di tutto per non perdere l'agoniato banco guadagnato ai provini Ecco le prime indiscrezioni e gli spoiler sul programma.Amici 2022, competizione tra i nuovi ragazzi della scuola Anche quest'autunno è segnato dall'inizio dell'anno accademico della scuola più famosa ad Italia Stiamo chiaramente parlando di Amici 2022. La trasmissione, andrà in onda con lo slot della puntata domenicale e il daytime, in onda dal lunedì al venerdì come sempre su Canale 5, al pomeriggio L'apertura delle danze avverrà il 18 settembre ed è una delle date più attese dai ragazzi appassionati di canto e di danza Il pubblico non vede l'ora di rivedere Arisa, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, la New Entry Emanuelelle e tutti gli altri talentuosi insegnanti del programma Anche i nomi dei nuovi volti del talent show di Maria De Filippi che sono ancora un mistero destano un forte interesse da parte dei telespettatori Sarà un'edizione ricca di novità e a quanto pare, la più importante riguarda un ritorno al passato che metterà inevitabilmente i ragazzi gli uni contro gli altri Lo abbiamo scoperto grazie a spoiler ed anticipazioni speciali Scopriamo di che cosa si tratta.ragazzi capoclasse e gare di nomination all'ultima sfida Secondo gli spoiler diffusi nelle scorse ore da parte degli amministratori della pagina Instagram Amici Sera le anticipazioni a decidere chi resterà nella scuola e chi invece perderà l'agoniato banco di amici 2022 Saranno in prima battuta i ragazzi stessi e il pubblico e poi i docenti A quanto pare, stanno per tornare la sfida a squadre e le nomination Dunque in ogni puntata, ci saranno due team diversi e contrapposti che avranno un leader ciascuno, scelto tra gli allievi preferiti dal pubblico Gli studenti favoriti, selezioneranno gli allievi che faranno parte della propria squadra Il team che perderà deciderà tramite nomination, chi mandare al ballottaggio, e a quel punto i docenti, decideranno definitivamente le sorti dell'allievo che rischierà di uscire dalla scuola Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao Ciao Ciao